pubblicità ho scoperto napisan plus quando è nato marco e lo uso ancora oggi perché ogni giorno veniamo a contatto con milioni di germi che nel cestone si moltiplicano aggiungi napisan plus il detersivo rimuove lo sporco mentre napisan plus disinfetta i capi per proteggere la mia famiglia uso napisan plus è un presidio medico chirurgico il mio riso è rapidissimo dottor scotti ma certo riso scotti rapid basmati pronto in due minuti rapidità e qualità riso scotti a mirabilandia avventura per tutti tutti i giorni non dimenticare la convenienza il giorno dopo entri gratis bene non mi piace correre rischi inutili io mi affido a tele 2 per risparmiare sulla bolletta di casa è facile basta chiamare il 19 22 tele 2 buongiorno posso aiutarla voglio risparmiare senza rischi allora faccia come i 28 milioni di persone in europa che contano già su tele 2 il mio numero tranquillo il suo numero resta lo stesso cambia solo la bolletta posso attivarla ora così può cominciare subito a risparmiare con te le due anche sulle urbane si sia buona oggi di domenica sono addirittura gratis sentito con te le due vai sul sicuro te le due perché pagare di più hai una sete da cammello san benedetto libera libera di berla dove vuoi come vuoi quando vuoi quando la sete prende san benedetto libera fidati della rondine guarda cos'è l'emergenza per la tua sicurezza informati sulle condizioni meteo e ricorda il numero 1530 per l'emergenza in il mare arriva la nuova serie di incantesimo mi fai un sorriso? serio angelo? alla famiglia e alla sua nuova componente la piccola giaca dobbiamo occuparci di potenziare la nostra equipe medica preparato una lista di candidati nuove storie fatte di passioni di intrighi è solo l'inizio dell'inizio le nuove appassionanti storie di incantesimo prossimamente su Rai 2 la nuova serie un caso per due due pronti a tutto due che valgono come cento forse ancora qualche asso nella manica ma anche noi ne abbiamo uno e quale serve quest'asso? ancora misteri da spiegare ottimo lavoro li abbiamo in pugno ancora criminali da mettere alle strette quale pensa sia la pena più appropriata? quella che deciderà il tribunale grazie ancora in prima visione un caso per due le indagini continuano lunedì alle 21 Rai 2 sessantaduesima mostra internazionale d'arte cinematografica Rai Cinema è a Venezia maestri e giovani talenti Rai Cinema emozioni da grande schermo si butti perché 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 la domenica ci lasciano sempre soli aspettando di vedere le partite di cartello perché perché la partita quella bella più non c'è ebbene sì da domenica 28 agosto su Rai 2 torna Quelli che è il calcio quanto sei bella arriva la nuova serie di incantesimo mi fai un sorriso? serio angelo alla famiglia della sua nuova componente la piccola giaca dobbiamo occuparci di potenziare la nostra equipe medica ho preparato una lista di candidati nuove storie fatte di passioni di intrighi è solo l'inizio di Venezia le nuove appassionanti storie di incantesimo prossimamente su Rai 2 la nuova serie con i suoi nuovi protagonisti Cobra 11 è ancora di più squadra speciale Cobra 11 sezione 2 domenica le 21 su Rai 2 lì dietro c'è un bel busto traumi da incidente stradale, colpi d'arma da fuoco qui non ci si annoia mai iar medici in prima linea la nuova serie in prima visione cos'è l'anticamera dell'inferno? ha mai visto un pronto soccorso prima d'ora? prossimamente su Rai 2 chiaro chiaro pubblicità saltare giocare sono sempre io Fiona e ho sempre bisogno delle stesse cose nutrimento e leggerezza latte, miele e pan di spagna sono fatti per questo insieme diventano Kinder Fetta al Latte Kinder Fetta al Latte più semplice di così basta con le sedute scomode mettiti comoda c'è nuovo Lines Petalo Blu l'assorbente così morbido e molleggiato che ti siedi volentieri perché sulla pelle c'è la morbidezza di un petalo e sotto soffici micromolle guarda come sono soffici e allora siediti comoda siediti comoda mettiti comoda con nuovo Lines Petalo Blu il morbido molleggiato che vuoi tu fai tanto per proteggerti fuori e dentro è nata Vallea Leger con gli Omega 3 che aiutano a proteggere il sistema cardiovascolare ogni giorno dal Tomcat al Black Hawk dall'aereo invisibile alla Pache aerei ed elicotteri militari una collezione di modellini fedeli nei minimi dettagli prima uscita l'F-18 Hornet a soli 3,90 euro aerei ed elicotteri militari vola in edicola risoscotti rapidi rapidità con qualità risoscotti ecco a voi Swiffer Duster l'innovativo piumino che cattura e trattiene la polvere leggero e flessibile raggiunge la polvere dappertutto qui qui senza lasciarla scappare Swiffer Duster il piumino cattura polvere e c'è anche il nuovo manico Swiffer Duster XXL lungo 90 cm che cattura e intrappola la polvere nei posti più difficili da raggiungere nuovo Swiffer Duster bioncè una doccia lunga un sogno è stato importante riscotte l'innovativo